Giuseppe Polese di Cimadolmo, Mario Piccin di Codogneri, Ino Casanova di Montebelluna e poi Dino della Vecchia di Sedico e Giuseppe Corso di Montorio Veronese sono i 5 Veneti morti 61 anni fa nella miniera di Marsinelli in Belgio. Un disastro, la più grave tragedia mineraria nella storia d'Europa è l'8 agosto del 1956 nella miniera del distretto di Charleroi a 60 km da Bruxelles. Scoppia l'inferno, alcuni carrelli precipitano da un ascensore e tranciano i cavi dell'alta tensione, le tubature dell'aria imprigionati nelle gallerie, bloccati dal fumo e dal fuoco muoiono tutti gli operai del turno mattutino. Un bilancio pesantissimo, 262 le vittime, 136 erano italiani. Molti anni dopo il processo si concluse senza un colpevole, tutti assolti. Intanto la morte dei minatori è diventata il simbolo delle tante troppe tragedie dell'emigrazione e del lavoro. Quando i migranti eravamo noi, i nostri padri, i nostri nonni, costretti a spezzarsi la schiena nelle viscere della terra in condizioni di lavoro disumane, oggi le commemorazioni in Belgio ed anche il Veneto ha ricordato le sue vittime. Quello che accadde nella miniera di carbone, ha sottolineato il governatore Zaia, rappresenta contemporaneamente un monito ed un ricordo che non si possono e non si devono cancellare. Il monito ad un continuo impegno per garantire maggior sicurezza nei luoghi di lavoro, la memoria dei tanti nostri corregionali che furono protagonisti di un'emigrazione fatta di dignità, di senso del dovere e di rispetto, di legame forte con le proprie radici.